Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Torna a Tirano il Corosso Sforzato Wine Festival e già si preannuncia un successo. L'evento che celebra il re dei vini di Valtellina, ossia lo sforzato di OCG, offrirà anche per l'edizione 2022 in scena il 16, 17 e 18 settembre un ventaglio di proposte di assoluta qualità e in primis la possibilità di conoscere ben 26 cantine vinicole e prestigiosa etichetta in 10 location del centro storico tiranese ad accogliere i partecipanti, i sommegli AIS e i gustatori ONAF nei suggestivi scenari di corti, chiostri, piazzette e giardini dei palazzi storici locali. In mattinata in municipio Tirano i promotori dell'iniziativa hanno illustrato i dettagli di una manifestazione che cresce ogni anno in eccellenza e presenze, attira partecipanti da tutta Italia e dall'estero e racconta non solo i vini valtellinesi ma anche un territorio unico ed eroico con la sua cultura e i suoi sapori grazie a visite guidate e laboratori sensoriali arte, musica e la bellezza potente dei suoi paesaggi primi fra tutti gli straordinari terrazzamenti. Eroico Rosso arriva alla sua ottava edizione in quest'anno la prima novità è il ritorno alla formula tradizionale quindi della degustazione libera nelle dieci postazioni che avremo sparse nei palazzi nobiliari tiranesi e nelle piazzette e noi ci siamo dimenticati del covid quindi una novità per il sabato proprio per evitare assembramenti quella delle fasce orarie che sono indicative che quindi chi prenota sceglie già prima più o meno l'orario in cui potrà essere presente. Promosso dal comune di Tirano in sinergia con il consorzio turistico media valtellina con il contributo di BIM, CM di Tirano e sponsorship di Credito Agricole Italia Eroico Rosso saprà conquistare formula rodata ma anche belle sorprese. La novità è una degustazione Eroico Ritorno al Futuro esclusiva a Palazzo Merizzi coordinata da Sara Missaglia con la presenza di importanti enologi e storici locali quindi un incrocio fra bellezza, storia e il nostro vino più pregiato e il Pic Chic la domenica quindi una formula anche questa esclusiva di Picnic con prodotti del territorio portati da Bottega Valtellina insieme alla Mieleria Moltoni. Il consorzio è sempre a fianco dell'amministrazione per l'organizzazione di questo evento importante perché è un evento anche turistico, di promozione turistica e di tutto il territorio. Per Credito Agricole Italia è un onore poter accompagnare il comune di Tirano in questa manifestazione molto importante sia per il territorio sia per le aziende del settore vitivinicolo. La nostra banca con la partecipazione all'Eroico Rosso Festival del Vino Sforzato rinforza il sodalizio con il territorio, conferma il sostegno all'economia e l'interesse verso lo sviluppo delle relazioni con tutti gli stakeholder e con i clienti. Quest'anno ospite d'onore dell'evento è il ciclista professionista Sonico Albrelli testimonial dell'etapa sforzato One Stage del Giro d'Italia 2022 e vincitore della Paris-Giroubaix 2021. Sono super fan della Valtellina ma per i posti qua davvero bellissimi come allenamenti quando vengo qua con i miei compagni. Sono sempre molto incantato dal paesaggio che c'è e da quante salite dure. Perciò l'importante è essere qua e festeggiare questa bella giornata.